Musica Ah porca misera Quanto, 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 quanto sono andato lontano Cioè ma, qua ci stanno i ghiacci Cioè ma Ma che è sto posto? Ma che cavolo è? Ma dove sono finito? Sembra che qua ci sia qualcuno che sia facendo una vanilla Porca miseria La prima cosa io dovrei chiedere E chiedere del cibo che ne ho pochissimo Veramente E là c'è qualcuno Non c'è nessuno, c'è uno zombie nel recinto delle mucche Cosa? Un zombie nel recinto delle mucche Due zombie Ma chi ha parlato? Adesso che ci penso Ma vedo un nome di là E io chi? Ah buongiorno Buongiorno Scusami ma mi sa per caso Posso indicare dove sta Dove sta Dove sta Montecatini Saga? Sì no vabbè lasciano sta Ciao ragazzi Mi fissi a te Vabbè Quando la intro mi viene male Vabbè 3, 2, 1 Ciao ragazzi Mi fissi a te Da quel cavolo di D che ha Se l'hai fatta fare una cosa Fai sit Dopo quel video di Skybrus che ho fatto con Luca Perché non chiamare uno dei suoi migliori amici Ovvero Marco Vi lascio anche il suo canale qua sotto nella descrizione Perché oggi andremo a fare un tour Della sua vanilla ufficiale Ovvero la Dragoncraft Eh sì cosa? Hai chiamato di nuovo Luca Cazienza Dissociamoci Dissociamoci tutti Timo esci da casa mia ora Forza Vai a costruire casa tua Eh Marco mi puoi da un po' di cibo? Sì Ma Ma chi ti ha picchiato ora? Voglio capir quello Ma Ma chi Ma chi ma picchia? Ah Chissà Ah Non ho capito Grazie per l'ospitalità Intanto Intanto Che ne dici? Andiamo a dormire Poi iniziamo il tour? Sì ma vai a dormire in una casa Se c'è un letto Ok Intanto vado a dormire la tua momentaneamente Eccoci qua Più svegli che mai Assieme a Marco Simone si sta facendo casa sua Intanto E iniziamo a fare il tour Di questo mondo Allora Da cosa iniziamo Marco? Da questa Da questa scalinata Che porta In un posto brutto In che senso posto brutto? Vi devo aspettare qualcosa Di terrificante Sì Una cosa orrenda Ok Ok Va bene Questa catapecchia Fatta malissimo E chi l'ha fatta? Un altro giocatore Che oggi non c'è E E non si è più fatto Ci sta Si lascia perdere Questo l'ammazzo io Sì in realtà L'armatura la volevo io Perché almeno Un po' di Vai prendila Ok Vabbè anche se d'oro Non fa nulla Però Qua ci sta un bel po' di roba Nella cassa Sì ma non tocchiamo Non tocchiamo Perché è anche casa di Mirko Comunque Sì vabbè Mirko Sì Vabbè lascio il sacco Quello è fatto a modo Eh almeno questo Poi Dizio Di la Dragoncraft Perché vi potreste divertire Lei è un youtuber Da poco più di 60 iscritti Quindi vi consiglio anche Di scrivere Perché lui è un mio Grande amico E qua c'è stata La farm di zombie Qua avete trovato Un mob spawn Che vi spawn Le robe Le robe Sì E qua Dispenser Lava E Sì Qua infatti Guarda il meccanismo In questa parte Sì infatti avete trovato Un bel po' di cose Che personalmente Qualcosa vorrei Allora Io mi Prendila pure Io mi prendo Quest'elmo in chain Questi pantaloni in leather Che sono Che sono abbastanza pieni Prenditi anche delle pale Se vuoi Perché tanto ne abbiamo Un bordello Eh infatti Però Carne marcia Personalmente Non la voglio prendere Visto che già c'ho cibo Eh sì La spada La pala Dov'è? La pala È lì Vabbè Pigliala Vabbè Ok Adesso me l'ha pigliato Ok Allora Questa qua diciamo Il mob spawn È bello il meccanismo comunque Sì grazie Che mi c'è voluto un po' Per palla Visto che Ne sono più C'è qualcosa No Non c'è nulla di interessante A parte la stazappa in pietra C'era la roba iniziale Che quando non avevamo ancora Delle case Ah ok Comunque raga Scrivetemi nei commenti Se volete che Inizia a portare Un pochettino di video Anche Che inizia a portare Inizia a portare Un pochettino di video Qua nella dragoncraft Di marco Perché mi farebbe Molto piacere Sì a me Ma anche un po' A lui E al suo team Di amici Ok Intanto Passa da qui Che c'è una strada Che poi nel video Della prossima volta Piccolo spoiler Dovrò risistemare Ah ok Che se qualcuno Mi viene a dare una mano Nel video Magari mi farebbe piacere Va bene Comunque qua Bella la farm Questa casa Qualcuno Non so chi sia stato Spaccato qua Penso già Di sapere Chi sia stato Ma sto zitto Che è meglio Ok Abbiamo già capito Che è stato Allora Questa casa Di chi è? Qua c'è la mia vecchia casa Che poi devo trasferire Due libri in città Hai trovato Blast protection E blast protection Acqua affinity Ok Sì e c'è Degli stivaletti Se qualcuno Non mi li ha toccati O sennò Sono nell'altra casa Stivaletti no No Qua c'erano Le stanze dal letto Che poi è levato Perché non avevamo Altri letti Sì e poi perché Ma una domanda Poi questa casa La demolirai No La tengo comunque Per riserva Perché mi piaceva Un sacco Tenirla Oppure la dai A qualche altro Il tuo amico Chi lo sa Magari me la puoi dare a me Sì infatti Se va ti adotte Tanto per ora Non c'è nessun altro Che poi Vabbè Intanto qua Che cavolo Sono entrato nel recinto Sì e avete già Scoperto I recinti delle mucche Eh infatti Qua abbiamo La coltivazione Che dopo Sì Dunque abbiamo Messe video L'ammazzo No Levalo Chiunque abbia messo Qua abbiamo Il recinto Dei polli Ok Ok Va bene Bello Allora Mi sono accertato Un attimo Con lui Affinché Avesse messo Un'impostazione Che permetteva Per lo meno Di sentire il suo audio Nel video Se l'avete sentito Fino qua Significa che l'ha messo Lui mi ha accertato Che l'ha messo anche lui Pure Simone Che non si sa Dove è andato Comunque qua ci sta Di cinto Di cinto Le pecore Tra l'altro Un botto Gialle Come avete fatto A farne tante cose gialle Eh abbiamo fatto Accoppiare Ehm Cioè avete trovato Una pecora gialla L'avete fatta Avete trovato No è che qualche genio Ha trovato i coloranti gialli E poi la colorate Tutte gialle Ah va bene Poi intanto Questa qua Di chi è la casa Mia Ah questa qua E con la tua nuova Sì Quella che c'è nel video Sì Però Non spoileriamo tutto Che non ho ancora fatto vedere Fino adesso mi sembra Quanti episodi hai fatto Quattro Sì Ora mi sembra quasi cinque Venerdì è il quinto Ah ok ok Ma diciamo Perché io nei video Non è che posso Sempre tutto Dal tipo di legno Che Infatti dal tipo di legno Che ho usato Vedo che sei già andato nel nether Infatti Hai visto anche il portale Eh infatti Qua ci sta Un tridente Quasi del tutto fatto Un arco Con power 4 Poi madonna Che fortuna hai avuto E qua ci sta La zona cottura Con una blast fornace Una fornace E uno smoker Perfetto Sì Comunque lo dico così Perché se non lo sai Un minecraft ce l'ho in inglese Io Per questa scala Dove porta Ah un altro Continua ancora il magazzino Che Queste casse sono vuote Sì lo devo finire Sì lo devo finire Perché c'ho ancora un bordello Ah ancora incompleto questo vuoi dire Sì Ora vi porto Già il tour Ora è finito Si va a trovare Simone E si picchia Ok Perché se no Non è un finale Con i fiocchi Ah ecco Come giusto che sia Proprio Come giusto che sia Vuoi l'arco Per frecciarlo Se si trova No Personalmente non lo voglio Fai te Fai tutto te Te lo lascia a te Intanto mi chiamano Così a caso Vabbè lasciamo sta Sentite un attimo la vibrazione Per questo Quindi lasciate sta Perché Adesso non posso rispondere Cioè madonna Mi chiamano sempre Nei momenti Meno opportuni Mi amici Vabbè lasciamo sta Dove state Eccolo E quindi questa qua Sarebbe la Nuova casa di Luca Nuovo Nuovo La prima casa E come si chiama lui Madonna Me lo scordo Se è Simone E qua non è che hai fatto Molto Però vabbè Vabbè È l'inizio Dai Diamo di tempo Sei nascosto Dissociati tantissimo E no ragazzi Io spero che questo vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se volete Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Se volete anche Che se volete che porto Pure io i video In questa vanilla qua Fatemi sapere Fatemi sapere Se vi è piaciuto il video Se vi è piaciuto il mondo In generale Da infiltrator Simone Non lo chiamo Luca E Marco Che è appena caduto adesso Come un cretino È tutto Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi